stiamo facendo il primo video del regalo di natale che è quella telecamerina lì vediamo come riesco 150! 150! 6 cento, 100, 150! non mi chiedi a risparmiare è risultato risultato adesso ora vediamo allora ok questo qui è il primo filmato dovrebbe essere un esperimento Ma invece no, cosa facciamo ragazzi? Lo pubblichiamo Ragazzi, siete sicuri che passa Pavo Natale? Ma sì, ma certamente No, vi ho passato a Pavo Natale Passo tutto di qui Ma basta